E' un piacere ritrovare dopo alcuni mesi Mr. Lucarelli ai nostri microfoni per fare tutti gli scongiuri che vuoi, il Covid vi è ancora lontani e questo vi dà la possibilità di prepararvi al meglio per la ripresa del campionato. Sì, dobbiamo essere bravi a sfruttare questo e approfittare di questo periodo di sosta per sistemare le cose, per recuperare tutti gli infortunati, quello che stiamo facendo è riprendere la condizione, chi arrivava da un periodo di un infortunio e quindi ha la possibilità di sistemare la propria condizione fisica e di fare integrare i nuovi, perché sono arrivati Orlando, tempo fa è arrivato anche Bruno il Quasì e stiamo aspettando altri due calciatori che credo la società mi ha confermato dovrebbero arrivare per completare il gruppo squadra e quindi riaffrontare l'ultima di campionato e poi partire per il giro di ritorno che dobbiamo assolutamente cercare di fare di più di quello che abbiamo fatto nel giro di andata. Eccoci proviamo, arriveranno dei difensori visto che nell'ultimo periodo di campionato c'erano stati alcuni problemi in quel reparto. Sì, ci sono stati soprattutto una serie di infortuni che ci hanno un pochettino penalizzato, però adesso dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo pensare che arriverà sicuramente un difensore, un altro centrocampista che andrà a riempire ancora di più la rosa perché sono usciti diversi calciatori, però la società sta lavorando in questa direzione, sta cercando di accontentarmi per cercare di creare un gruppo squadra che ci porti alla salvezza, l'obiettivo che noi dobbiamo assolutamente raggiungere. Quale sarà il futuro visto che comunque il 2022 è anche l'anno del centenario per il Chieti e sicuramente i tifosi si aspettano qualcosa di importante da questa squadra? A noi sicuramente l'obiettivo è quello di cominciare subito con le rega canatesi e di fare una grande partita, perché è vero che affrontiamo la prima della classe, ma noi dobbiamo pensare a fare punti anche con loro, perché bisogna entrare con questa mentalità all'inizio del campionato. Noi stiamo lavorando forte, stiamo lavorando bene, stiamo cercando di dare il massimo, di farci trovare pronti appena riniziare il campionato. Non sappiamo ancora quando, perché fino adesso al 2023 è possibile pure uno slittamento ulteriore, ma noi dobbiamo pensare solo a noi e lavorare come stiamo facendo adesso. Io del gruppo squadra in questo momento sono soddisfatto, perché sicuramente sono arrivati dei calciatori che hanno più esperienza, hanno più in questa categoria, ci possono dare più sostanza e anche quelli che arriveranno, che adesso sono in prova, ma sicuramente la società farà di tutto per accontentare e cercare di riempire, come dicevo, la rosa. Noi saremo pronti per l'inizio del nuovo campionato.